Sabato dalle 15 alle 18 su Radio 24, come sempre il sabato del villaggio. Cosa ci sarà sabato prossimo? Allora, subito tutte le novità delle serie tv da guardare nella prossima stagione ma anche quelle da recuperare durante l'estate. Le novità televisive dell'anno prossimo con due interviste esclusive a Carlo Conti e a Fabio Fazio. Poi le novità tecnologiche, il weekend al cinema, i consumi, le nuove tendenze e i libri con Alessandra Tedesco. Ci toccano anche i libri, sì. Quindi parleremo del libro di cui si sta parlando in questo momento, quello di Daria Bignardi che sembra essere stata fulminata sulla via di Damasco, signori e signori, perché parla di una santa, sì, parla di una santa. Poi come sempre i consigli, un libro rosa, ma ironico, un libro drammatico, un libro radical chic e un libro giallo. Per concludere, sempre al sabato del villaggio, le novità di Fuori Expo, i 50 anni dei Beatles in Italia e poi dalle 17 alle 18 all'appuntamento con RadioTube parleremo di anni Ottanta, il grande ritorno degli anni Ottanta e poi sapremo come si costruisce una YouTube star famosa in Italia, sabato.